Il tema più caldo di questi giorni fa discutere l'aula del Consiglio regionale, le voci dei consiglieri. Solidarietà dell'Assemblea Toscana, Malika Ciali, la giovane di Castelfiorentino, vittima di discriminazione e di un grave episodio di omofobia da parte dei propri genitori. Passa a maggioranza la mozione sul DDL ZAN. Emergenza Covid-19 e riaperture. Il tema caldo di questi giorni arriva sul tavolo della regione, le posizioni dei consiglieri. Questo è un tema veramente importante, veramente caldo. Da una parte con il cuore siamo vicini a coloro che ormai non stanno più sopportando le chiusure. Dall'altra parte il grande equilibrio di dover tutelare la salute dei cittadini e degli ospedali, soprattutto degli operatori che in questo momento stanno soffrendo. Quindi è importante, secondo me, valutare e avere anche la possibilità di fare quell'esercizio un pochino più approfondito, ovvero di poter andare, ora in base anche a quello che sceglierà il governo, alle riaperture. Come già avevamo chiesto, peraltro, nella scorsa chiusura e nella prima ondata, andare per chiusure laddove ci siano veramente dei casi, un numero di casi superiore alla norma. Era un po' l'interrogativo che ci eravamo posti appunto qualche mese fa. È necessario chiudere tutto anche laddove non ci siano casi e contagi? Beh, è un po' il principio su cui proveremo a riflettere nei prossimi giorni, ovviamente sapendo che la Regione non ha autonomia in quanto a riaperture, ma noi possiamo semplicemente andare a capire quali siano i contagi e lavorare, perché aumentare la campagna di vaccinazione, che ricordo è il vero problema perché mancano i vaccini, può sicuramente dare una spinta e favorire anche le riaperture. A questo si aggiunge il grande tema dei ristori e quindi ecco perché in accordo anche con quello, anzi in accompagnamento con quello che arriverà dal governo, proveremo anche come Regione, nelle prossime manovre di bilancio, come già annunciato, a dare un aiuto a coloro che stanno soffrendo più di altro, ovvero a coloro che non hanno ancora avuto nessun tipo di ristoro nazionale o comunque meno rispetto ad altri. Però ecco, il criterio che ci deve muovere secondo me deve essere quello di capire come riapriamo, in che sicurezza. Io so benissimo che le imprese, gli esercizi commerciali hanno speso risorse per mettersi in regola, per avere protocolli di riapertura e penso sia importante anche tener conto di questo. Noi siamo convinti del fatto che le attività debbano riaprire, possano riaprire rispettando le regole, facendo prevenzione, mettendo una mascherina, tenendo le distanze, lavandosi le mani. Ci diamo tre regole certe, le rispettiamo e siamo convinti che le attività economiche saranno le prime a chiedere ai propri clienti di rispettare le normative e non possiamo più accettare delle chiusure. A mio avviso questa storia dei colori, giallo, rosso o arancione che sia, deve terminare perché non può più durare un lockdown permanente a distanza di un anno. I numeri ci dicono questo. Peraltro per effetto di tutti questi ripetuti lockdown non è che il quadro sia migliorato al cospetto di altri paesi europei. Quindi diamoci delle regole, magari rigidi, ma rispettiamole e consentiamo all'impresa di lavorare, così come alle scuole, di essere aperte. Noi lo stiamo dicendo in tutte le sedi istituzionali che laddove si può riaprire è consentito dai dati e si può riaprire in sicurezza con tutte le norme del caso, si deve riaprire. Dobbiamo tornare a vivere, dobbiamo consentire ai nostri cittadini di lavorare perché questo ci chiede ormai la nostra cittadinanza, quella di poter tornare a lavorare. Siamo un popolo di lavoratori, non siamo persone che vogliono stare con le mani in mano e riteniamo che laddove c'è la possibilità si debba farlo il prima possibile perché salvare l'economia è indispensabile. Anche nella nostra regione sappiamo benissimo che la maggior parte delle nostre attività sono fatte di piccole imprese a conduzione familiare quindi le stiamo mettendo veramente a repentaglio il futuro anche di piccole aziende che ormai sono tramandate da generazioni. Dobbiamo consentire laddove è possibile di riaprire il prima possibile. Questo è quello che la Lega ha già chiesto tramite Matteo Salvini al Governo e che continueremo a chiedere finché non ci sarà dato. Ovviamente bisogna che anche le altre forze politiche capiscano soprattutto quelle che sono al Governo che l'esigenza ora è stringente che c'è bisogno di dare risposte, di dare delle date e soprattutto di consentire a chi può farlo con la normativa giusta con tutte le accortezze del caso in zone dove la pandemia lo consente di poter tornare a lavorare il prima possibile. La sfida doveva essere una sfida già iniziata. Io come voi ho assistito alla nascita di un Governo nazionale chiamato a sostituire il Governo che non sapeva decidere per iniziare a decidere e avviare il cronoprogramma verso le riaperture. Mi pare che ci sia una continuità totale e assoluta tra questo esecutivo e quello precedente. Mi sembra che come l'ex Primo Ministro Conte non sapesse scegliere da dove ripartire per le riaperture il Presidente Draghi sia nella stessa identica situazione e continuiamo la cosa surreale di continuare a tener chiuse quelle attività che abbiamo chiuso da un anno e mezzo senza che la loro chiusura incida in qualche maniera sui contagi. Io continuo quotidianamente a fare un esempio. Se tu esci di casa, la sera torni e trovi il bagno allagato tutte le mattine esci e prima di uscire chiudi l'acqua al lavandino torni la sera e trovi il bagno allagato richiudi l'acqua al lavandino torni la sera e trovi il bagno allagato o provi a chiudere la doccia perché forse la perdita non arriva dal lavandino oppure continui a chiudere il lavandino e vivere con l'acqua che ti arriva alle caviglie. La scelta di Draghi come quella di Conte è di continuare a chiudere il lavandino e l'acqua non è più alle caviglie ma ora inizia ad arrivare quasi alla bocca degli italiani. Le riaperture ci devono essere e devono essere fatte con molta cognizione di causa e con attenzione. Ecco perché non si può andare in maniera isolata la regione toscana piuttosto che altre regioni. Io credo che molti professionisti siano in grado in questo momento di riuscire a lavorare magari meno ma in sicurezza però tutto questo deve essere concertato insieme a dei tecnici che sappiano anche fare queste valutazioni e delle volte prendere delle posizioni politiche può significare non riuscire a contemporare tutte le esigenze che ci sono. Il ruolo della politica in questo momento è far venire incontro le esigenze della sicurezza con quelle delle persone che giustamente e legittimamente e per questo non gli siamo vicini chiedono di ricominciare a lavorare. Solidarietà nei confronti della giovane di Castelfiorentino Malika Ciali vittima di discriminazione e di un grave episodio di omofobia da parte dei propri genitori. Il Consiglio regionale ha approvato con voto unanime una risoluzione a sostegno della ragazza ripudiata dalla famiglia perché omosessuale. Nel corso della seduta è stata poi approvata a maggioranza la mozione sul DDL ZAN. L'atto di indirizzo presentato dalla consigliera 5 Stelle Irene Galletti chiede alla Giunta di attivarsi affinché la legge sia discussa e votata in Senato. Contrari voti di Lega e Fratelli d'Italia. Ieri abbiamo approvato due atti importanti una mozione di sostegno a Malika per la vicenda che ha subito insieme alla famiglia un luogo dove ciascuno vorrebbe essere accolto e trovare la solidarietà necessaria ad affrontare il mondo e dove invece tanti ragazzi e ragazze sono costretti ad incontrare ad affrontare i primi scogli e i primi confronti soprattutto quando ciò riguarda la sfera intima della loro identità di genere e sessuale. Credo che sia giusto sottolineare di questo episodio di Malika che riguarda Malika Castelfiorentino il fabbisogno educativo della comunità intera degli adulti e dei ragazzi perché come qualcuno ha detto ho letto sui giornali anche i genitori di Malika hanno bisogno di aiuto per imparare a capire e a direzionare il loro, credo, in dubbio amore mal espresso e mal gestito verso la loro figlia che ha così bisogno invece e ha così necessità di un giusto riconoscimento per la sua persona e la sua espressione personale. Vieri per l'appunto in Consiglio c'era anche un atto a sostegno che promuoveva la calendarizzazione e chiedeva al governo la calendarizzazione al Parlamento, scusate la calendarizzazione del DDL Zan C'è stato un bel dibattito devo dire in cui si sono confrontati davvero due modi di pensare chi ritiene che come debba essere scontato perché la Costituzione già lo dice che non si debba discriminare e quindi che un DDL una legge su questo sia ultronea e chi invece proprio partendo dalle cronache dice non basta l'affermazione di principio è necessario attuare quei principi con leggi specifiche che stigmatizzino certe condotte io sono intervenuta proprio per sottolineare questo cioè come sia indispensabile stigmatizzare condotte e comportamenti e come non si possa nascondersi dietro l'ipotesi del reato di opinione ringrazio i colleghi del Consiglio regionale la Toscana tutta il Consiglio regionale esprime solidarietà a Malica per quanto è successo perché vuole metterla nelle condizioni di sentire il calore delle istituzioni toscane tutti i partiti politici presenti in Consiglio regionale hanno accolto il mio appello quello di fare un atto forte del Consiglio regionale che esprimesse solidarietà alla Malica quanto persona in quanto tale in grado di esprimere ovviamente la propria sessualità proprio orientamento e allo stesso tempo anche fare un atto che impegnasse la Giunta per mettere in campo azioni di sostegno qualora necessarie a confronto a favore della ragazza per consentire a lei come a tutte quelle altre situazioni che si possono verificare nella nostra regione di esprimere la propria libertà i propri sentimenti la propria sessualità e soprattutto la propria libertà la Toscana è terra di diritti la Toscana è terra di libertà e come tale questo è un atto importante è il primo atto pubblico che un Consiglio regionale fa in questa direzione e mi auguro che ce ne siano anche altri di sostegno a favore di tutte quelle persone che magari possono essere discriminate ingiustamente per il proprio orientamento sessuale sono due temi completamente differenti sulla calendarizzazione del DDL ZAN per quanto sia competenza del Consiglio regionale decidere quando Senato e Camera debbano discutere i disegni di legge abbiamo votato fermamente contrari perché riteniamo che sia una proposta di legge un disegno di legge non solo strumentale non solo anche pericoloso ma soprattutto assolutamente inutile in questa fase storica noi abbiamo fatto gli ultimi due consigli regionali barricati dentro il palazzo mentre fuori in strada c'erano decine e centinaia di lavoratori che chiedevano ristori chiedevano aiuti non mi pare che ci fossero fuori migliaia di persone a chiederci di approvare il DDL ZAN diverso invece è il caso di Malica a cui va tutta la nostra solidarietà tutta la nostra vicinanza è folle è vergognoso è assurdo che nel 2021 ci possa essere qualcuno che si arroga il diritto di giudicare un'altra persona in funzione dei propri orientamenti sessuali dispiace ancora di più quando questi sono addirittura i genitori quindi a Malica tutta la vicinanza la vicinanza nel giorno in cui purtroppo rilevo che Malica è caduta nella trappola di chi la vuole strumentalizzare politicamente visto che mentre noi le esprimevamo solidarietà lei sui social attaccava Giorgia Meloni mi dispiace che si sia fatta strumentalizzare da questo la invito a venirci a trovare in consiglio regionale mi piacerebbe confrontarmi tanto con lei io ho sentito la discussione in aula e ritengo incredibile che alcune componenti politiche da una parte votino e promuovano il sostegno e la solidarietà a una persona che è stata vittima di aggressioni per ragioni dovute all'orientamento sessuale e nello stesso tempo dichiarino come i loro leader Salvini e Meloni che una legge contro l'uomo lesbo bi-transfobia perché è qualcosa di molto più complessa e l'abilismo non sia una priorità ritenendo che in questo momento le attenzioni debbano essere tutte concentrate su legittimamente la questione dei vaccini dei ristori e delle riaperture l'informo che le commissioni sono differenti e che uno Stato che si ritiene tale che tuteli i diritti di tutti deve saper portare avanti tutte queste istanze nello stesso tempo in Consiglio ho sentito un'arrampicata sugli specchi di Fratelli d'Italia che di fatto prende le distanze da quella che è una questione di giustizia diritti e rispetto della nostra Costituzione di fratelli di fratelli di fratelli di fratelli Grazie a tutti.